Ciao a tutti! Oggi impariamo insieme come realizzare una mappa geografica dinamica. Negli ultimi anni i produttori di circuiti stampati hanno dato la possibilità, a costi sempre più accessibili, di realizzare circuiti stampati di forme, spessori e colori diversi. Ho pensato di sfruttare questa possibilità per disegnare insieme un circuito stampato con la forma della mia nazione, l'Italia, e per trasformarlo in una mappa dinamica. Grazie a 20 LED RGB, uno per ogni regione d'Italia, sarà possibile visualizzare diverse informazioni. Visto il periodo attuale, ho scelto di rappresentare il numero di nuovi casi giornalieri di Covid-19, recuperando l'informazione dal repository GitHub ufficiale della protezione civile. Nella prima parte del video vedremo come realizzare il circuito stampato, mentre nella seconda scriveremo lo sketch Arduino per scaricare i dati da internet e controllare i LED RGB. In descrizione a questo video trovate il link al repository GitHub dove ho caricato tutto il materiale per realizzare il progetto e i link per scaricare i software che andrò ad utilizzare. Per prima cosa dobbiamo procurarci una mappa dell'Italia. L'ideale è trovarla già in formato vettoriale, ma spesso si trovano solo immagini bitmap. Visto che voglio rappresentare le singole regioni, ne scelgo una che abbia anche i loro contorni. Per preparare l'immagine utilizzerò due programmi gratuiti per Windows, Paint.NET e Inkscape. Apriamo l'immagine con Paint.NET. Vogliamo realizzare un solo circuito stampato. Le due isole devono essere quindi collegate al resto d'Italia. Mi serve inoltre una base per far appoggiare verticalmente il circuito stampato e dove posizionare il connettore per alimentazione e dati. Ho bisogno di due immagini, una con il solo contorno del circuito stampato e una con disegnate anche le regioni, che userò per la serigrafia. Per ottenere la prima, con lo strumento gomma cancello quindi tutte le linee che non appartengono al contorno. Le due immagini sono pronte ora per essere vettorializzate. Importiamo la prima in Inkscape. Quindi selezioniamo Path, Trace Bitmap. Molto importante selezionare la modalità Center Line Tracing per avere un'unica linea che segue il contorno dell'immagine. Clicchiamo OK e dopo pochi istanti l'immagine è vettorializzata. La versione vettoriale è sovrapposta a quella originale. Se spostiamo leggermente, possiamo notare le differenze. Rimuoviamo l'immagine originale e controlliamo il risultato. E' molto importante che il contorno sia continuo, senza interruzioni. Possiamo sistemare eventuali difetti utilizzando lo strumento Edit Paths. Una volta che l'immagine è pronta dobbiamo esportarla in formato AutoCAD DXF-R12 Effettuiamo lo stesso procedimento anche per la seconda immagine. Al termine avremo due immagini DXF una con il solo contorno dell'Italia e l'altra anche con le regioni. Passiamo ora ad Eagle Creiamo un nuovo progetto e passiamo subito alla board. Selezioniamo il Layer Dimension Quanto disegnato su questo layer andrà a definire le dimensioni del mio circuito stampato. Attiviamo anche la modalità Single Layer comoda per modificare un layer alla volta. Per tenere i costi bassi il circuito stampato sarà al massimo di 10x10 cm. Per aiutarmi disegno un rettangolo di tali dimensioni. Importiamo l'immagine con il contorno dell'Italia. Assicuriamoci che il Layer Target sia 20 dimension. Non ho trovato un modo semplice per trovare il giusto fattore di scala. Andando a tentativi ho trovato che il valore 4.3 è giusto per questa immagine. Ecco che il contorno del nostro PCB è pronto. Possiamo rimuovere il rettangolo attorno. Importiamo ora la serigrafia delle regioni. Modificando solo il layer che sarà T-Place. Possiamo modificare lo spessore della linea perché sia più visibile. Selezioniamo tutto. Quindi impostiamo lo spessore a 20 e clicchiamo sul contorno tenendo premuto CTRL. Se torniamo su Layer Dimension possiamo vedere il risultato finale. Passiamo ora allo schema elettrico. Molto semplice. Ho scelto di utilizzare dei LED RGB chiamati SK6812 Mini facilmente acquistabili da diversi negozi online. Questi LED sono molto comodi da saldare a mano perché pur essendo di dimensioni ridotte presentano 4 terminali. Aggiungiamo quindi 20 LED collegandoli in cascata. Il pin D-OUT collegato al pin D-IN del seguente. Infine aggiungiamo un connettore a 3 pin per portare al circuito stampato l'alimentazione, 5V massa e il segnale data. Posizioniamo LED connettore sulla board e lanciamo l'autorouter per realizzare i collegamenti. Questo è il risultato finale pronto per generare i files Gerber da inviare al service che realizzerà i circuiti stampati. Per questo progetto ho utilizzato JLCPCB. Trovo sempre affascinante ricevere i circuiti stampati che ho disegnato. Vediamo ora lo sketch Arduino. Vista la necessità di scaricare dati da internet ho scelto di utilizzare una scheda Wemos D1 basata sul chip ESP8266. Iniziamo a capire come sono strutturati i dati che ci servono. La protezione civile pubblica giornalmente un file in formato csv, campi separati da virgola, su GitHub. Tale file contiene diversi campi tra i quali il codice della regione e il numero di nuovi positivi. Iniziamo proprio dal codice regione. Nello sketch ho definito un array con la corrispondenza tra questo codice e il LED relativo alla medesima regione. Ad esempio la ragione Calabria ha codice 18 e il LED associato è il quinto. Sempre nello sketch ho creato alcune costanti per i parametri di connessione alla rete Wi-Fi e per il download del file csv. Il controllo dei LED viene fatto utilizzando l'ottima libreria Neopixel di Adafruit. Il segnale data per i LED sarà generato sul pin 14. Terminiamo le definizioni con le diverse soglie corrispondenti ai colori verde, giallo, arancio e rosso. Se ad esempio il numero di nuovi casi è superiore a 1000 il LED della regione sarà di colore rosso mentre se è inferiore a 300 sarà verde. Il metodo SetPixelColor applica proprio la logica che vi ho descritto. L'aggiornamento dei dati avviene con una frequenza definita dalla costante UpdateInterval in questo caso 600 secondi o 10 minuti. Di tale aggiornamento è responsabile il metodo UpdateMap. Questo metodo si collega a GitHub e scarica il file. Dopo aver scartato gli headers HTTP e la prima riga del file che contiene le intestazioni delle colonne le rimanenti righe sono suddivise nei diversi campi tramite la funzione strtoc. Come visto il terzo campo contiene il codice regione mentre il tredicesimo il numero di nuovi casi. Una piccola complessità sta nel fatto che il file contiene due valori per la regione Trentino Alto Adige. Il codice che vedete serve proprio per sommare questi due valori. Infine viene chiamato il metodo SetPixelColor che come abbiamo già capito aggiorna i colori dei led in base ai valori e soglie. Dopo tante parole proviamo finalmente il progetto. Alimentiamo la scheda Wemos e dopo qualche secondo ecco che le regioni si colorano. Spero che questo progetto vi sia piaciuto. Se vi va iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdervi i prossimi. Grazie per la visualizzazione e buon divertimento!